SINDACO SINDACO, un altro grande appuntamento a Pineto. Questa nuova edizione del Torneo Internazionale Città di Pineto, una grande vetrina per la vostra città. Pineto oggi si freggia di ospitare 22 eventi sportivi. Ovviamente questo è tra i più grandi degli eventi che ospitiamo. Ormai siamo alla quinta edizione. Io ringrazio Pineto Calcio perché sta facendo un lavoro straordinario, non solo nell'ambito di questo importante evento che vedrà squadre arrivare un po' da diversi paesi, ma per l'attività sportiva che porta avanti durante l'anno, ai successi, ai meriti sportivi sul campo a cui stiamo assistendo in questi giorni e soprattutto la collaborazione che si sta instaurando con le istituzioni. Non è facile organizzare una macchina del genere. Noi impieghiamo praticamente 12 mesi. Siamo riusciti quest'anno a portare il Malmo, che è una squadra svedese quest'anno anche in Champions, che per dirne una è quella che lanciò Ibrahimovic nel grande calcio. Abbiamo portato la Stella Rossa Belgrado, Serba, e abbiamo portato l'Arsenal, che per noi è stata veramente una meraviglia poterla riuscire a portare l'allenatore e l'Humberg, per gli appassionati, anzi anche per il gentile sesso sarà una bella sorpresa. A proposito di Arsenal, è vero che gli inglesi prima di accettare l'invito e di partecipare a questo evento hanno voluto accertarsi invece dell'integrità degli impianti sportivi di Pinedo? Ma le curiosità sarebbero tantissime. In particolare l'Arsenal ha inviato un suo ispettorio, un'ispettrice, una ragazza, due giorni ed è venuta a visionare l'impianto, il terreno di gioco, se era a derma naturale o artificiale, la struttura alberghiera che l'avrebbe ospitato, hanno dato le loro indicazioni, diciamo così, sulla dieta, quindi anche lo chef si dovrà mettere a disposizione ed è normale perché quando si sposta una società così deve essere tutto alla perfezione. Ci hanno messo dieci in pagella perché sono andati via entusiasti e verranno con un buon seguito anche di sportivi, di familiari, di appassionati. Importante anche il ricordo di Mimmo Pavone e Alessandro Mariani ovviamente. Beh, a noi ci tocca il cuore, ci tocca il cuore perché noi lo facciamo per loro. Mimmo era un nostro coetaneo che giocava con noi, sono più di dieci anni, dodici anni che è andato via, Alessandro Mariani la stessa cosa. Cerchiamo di portare avanti un ricordo anche se non serve, e noi sono sempre stati con noi, pure lo stadio ha la stessa denominazione Mariani Pavone e noi lo facciamo solo per loro, per comunque farli conoscere a chi non ha avuto la possibilità di conoscere, due grandi ragazzi. Franco Oddo, responsabile del settore giovanile del Pineto, parliamo di questa manifestazione mista, manifestazione importante che vede le migliori squadre italiane in Lizza. Questo torneo racchiude la crema del calcio nazionale e anche internazionale perché ci sono delle squadre, ci sono tre squadre straniere ogni anno e è un bel torneo, indubbiamente, dedicato a due ragazzi che purtroppo non ci sono più, ai quali forse quest'anno sarebbe stato opportuno, almeno con il ricordo, aggiungere il nome di un ragazzo, Marco Calabretta, che purtroppo quest'anno non è più con noi, faceva parte del settore giovanile, tutti sappiamo che cosa è successo e quello che ha portato nella comunità di Pineto e soprattutto nella famiglia. Queste manifestazioni sono importanti anche perché ci sono le migliori squadre nazionali e internazionali anche per una crescita del calcio giovanile locale. Sì, è un trampolino di lancio per far conoscere un po' questa realtà del settore giovanile che dovrebbe essere in verità curato di più in Italia. Occorrerebbe un grande rilancio perché questo è il futuro del calcio, secondo me. Presidente, è una bella iniziativa, questo torneo è importante per la crescita anche del vivaio del Pineto Calcio e del calcio locale. Sicuramente, è un'espressione di vitalità della nostra società, quindi organizzare un torneo con tutti i sacrifici, gli sforzi è considerevole, è positivo, sicuramente è un grande risalto per i giovani che vengono a giocare a Pineto. Questo è un momento molto favorevole per il calcio pinetese, ci sono ancora 180 minuti, prima tutti si augurano di poter festeggiare quello che fino a qualche mese fa era un sogno alla Serie D. È un sogno che sta continuando, speriamo bene, speriamo veramente di fare festa il 12 a Pineto al novantesimo di quella partita e rivortare il Pineto in quarta serie, dove ha militato per 16 anni, lo facciamo veramente con orgoglio, con un amore intenso, speriamo bene. Poi come società, guardate però, in avanti c'è questa partnership col Pescara importante, questa collaborazione che è nata qualche mese fa. Sì, è nata, come dicevo prima, prima della fine dell'anno, è una grande cosa perché i ragazzi meritevoli possono andare direttamente al Pescara, di rimando, i giovani del Pescara che hanno bisogno di formarsi possono militare con noi. Chiaramente fare la quarta serie, la Serie D è veramente un palcoscenico più visibile per tutti. Presidente Ortolano, un altro grande torneo giovanile all'Abruzzo, questa quinta edizione del torneo internazionale Città di Pineto, un fiore all'occhiello del calcio giovanile abruzzese. Diciamo che questa forse sta diventando negli anni la manifestazione principe del calcio giovanile abruzzese, nazionale, internazionale, un respiro ampio di questo torneo, quindi le congratazioni e i ringraziamenti ai dirigenti del Pineto Calcio che hanno voluto questa formula, che ha delle peculiarità per cui attrae sempre di più società importanti, intanto per la qualità proprio del torneo e quindi per la qualità di chi lo progetta e che poi lo rende possibile e poi perché coinvolge una fascia d'età che è importantissima nell'ambito proprio della valorizzazione del vivaio per cui le società sono attratte anche a venire, a confrontarsi, perché non è facile confrontarsi in ambito internazionale per questi ragazzi nell'ambito della loro vita calcistica. Grazie per la visione!